Aaaaaa, aaaaaa, uuuuuh Oggi facciamo il punto sull'impegno della regione Abruzzo verso il miglioramento degli impianti sportivi perché a disposizione ci sono 30 milioni di euro provenienti da residui e risparmi di fondi europei ha tanto a monte il tesoretto che la regione Abruzzo mette in campo nei prossimi mesi per il miglioramento dell'impiantistica sportiva. La notizia è stata comunicata questa mattina dall'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci che ha partecipato alla conferenza stampa sul censimento degli impianti sportivi promosso dal CONI alla quale hanno partecipato il presidente nazionale Giovanni Malagò e il presidente regionale Enzo Imbastaro. Paolucci ha detto che questi fondi europei saranno utilizzati per interventi di miglioramento e di ampliamento degli attuali impianti a cominciare dall'abbattimento delle barriere architettoniche per il loro utilizzo anche da parte degli utenti disabili. L'assessore Paolucci ha inoltre ricordato l'impegno della regione in favore dello sport dilettantistico e di società come la legge regionale numero 20 che finanzia il mondo dello sport e tutte le iniziative promosse a seguito del sisma sia del 2016 che del 2017. Tutto ciò ha costituito una vetrina internazionale per l'Abruzzo, vale a dire l'organizzazione di eventi importanti subito dopo i fatti gravi del terremoto e sono la tappa del Giro d'Italia, i mondiali di sci studentesco, i trofei di basket e di pallavolo ed il Giro donne. Tutte iniziative, ha sottolineato l'assessore, che prima di questo governo regionale non godevano di queste linee di accompagnamento. A coronamento dell'impegno della regione, Paolucci ha aggiunto che lo sforzo vero da parte nostra sarà quello di investire altre risorse accompagnando all'impegno finanziario quello di fornire capacità e strumenti per la corretta gestione delle strutture sportive. All'esito del censimento promosso dal Coni, in Abruzzo risultano 1815 impianti sportivi suddivisi in 460 nella provincia dell'Aquila, 566 nella provincia di Chieti, 332 nella provincia di Pescara e 457 nella provincia di Teramo. Uuuuuh